Oggi faremo un unboxing di Pokémon. Sei tu fiabesco? Sei un allenatore fuori classe? Ho chiuso le parole, quindi cominciamo l'unboxing. La guida per giocare, i divisori per carte Pokémon, i dadi che non so a che servono, però questo è carino. Dobbiamo togliere tutto. Slip per le cartellarie che si usciranno. Questa Pekarons che vale 9,99. Ecco appunto. Ho le mani di burro. Quindi prendiamo questo. E' una slip. E mettiamolo qua dentro. Poi un codice. Poi un divisore che non avevo preso prima. Pegnalini. Avvelenato e infuocato. Era avvelenato oppure... Ok. Non mi ricordo. Poi. Energie. Tante energie. Tutte energie. Perfetto. Sì, sono sicuramente tutte energie. Sì, sono tutte energie. Vabbè, non so come farvelo vedere. E ora comincio il vero e proprio unboxing. Tantissime bustine di segreti che abesco. Speriamo che andrà bene. Non ho mai aperto un peccetto segreto che ha blocco da quando è uscito. Min. Codice. Energy. potete spiegarmi perché ci sono delle pokeball siete seri di già cominciamo benissimo no se ci sono altre carte rare no ora vi dico tutti i nomi delle carte allora in un vabbè non so leggere forse a prex mi scelto vabbè ho già troppo non c'è questo amore urmo urmo accademia di notte chiurel varum galvantula e per finire kindran ex prendiamo le slip e mettiamo pure questo nelle clip sul tavolo c'è un po' di casino vabbè ci sono dettagli oggi è nero energia sempre pulmine rawlet axel zorua daltrix perseveranza diacromio desidui vabbè e tre vede ste carte le vedi solo tu che unboxing è lo stesso di prima che non ho saputo pronunciare ripetemelo nei commenti toxic rock e axolus vediamo bene luogo luogo sento un pochetto un pochetto grattare mettiamo quel moso di gold pack finalmente una carta rara non ho mai avuto una di queste carte stadio anche questa è rara anche questa è rara andrà nella mia collezione prendiamo le slip ma a parte che le slip sono bellissime non ho mai avuto una carta di questo genere certo perché non ho neanche fatto troppi aperture a parte 23 codici dello scorso episodio non non dello scorso vabbè di qualche episodio fa se non l'avete visto è andato da riferire dello stacchettamento sul gioco codice codice energia triccet 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 tricc speriamo bene corno niente vediamo bene vediamo bene codice codice energia questa carta mi sembra una cucchia questa carta mi sembra una cucchia vabbè perseveranza di acromio falena ferrea tempo futuro i vet i vet vabbè silveon jurem axolus condom rolet rexul condom rolet e persia e persia abbiamo questo pochetto cinque codice codice energia base purful vabbè varum absol flexur cassipea tesi due vabbè accademia di notte malamar ursaluna luna cremesi per il momento per il momento solo vabbè non c'è più 3 non lo so ho visto pochetto 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 energia luna 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 galvantula luna poche vitale a axolus e e crescelia e questa va direttamente va subito nella protettiva 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 la protettiva si vediamo bene pure in questa non mi spoilererò niente luna ornice energia base energia base a tempo passato chassi luna 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 un e toxi track l'ultimo pacchetto spero il 3 bordo un po' rovinato del codice come vedete qua bianco energia forse ho sentito una carta rara non è vero cioè non credo almeno questo spangiole non non pulla non ha pullato solo quattro carte rare che una stava già nel kit quindi ha voglia due di queste una di questa bellissimo raga il video finisce qui forse il prossimo video sarà un pochetto più divertente perché lo faremo con la mia nuova nintendo che mi hanno dato oggi il compleanno e per chi non lo sappia questo video lo stiamo registrando il 31 agosto così se volete non potete fare gli auguri in ritardo il video finisce qui non 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 Grazie a tutti.